Salve a tutti amici di YouTube, riaccomi sul canale, è un po' di tempo che non ci vediamo, torno portando un video promozionale, mi hanno praticamente contattato per sponsorizzare una torcia da pistola o comunque da rail, però è un po' più usata per le pistole, perché è fatta apposta per essere agganciata sotto il carrello delle pistole e quindi con l'occasione torno a fare un video, per salutarvi, un bel po' di tempo che non mi faccio sentire, ci sono ancora, comunque giro ancora un po' su YouTube, la vita non è mai un po' cambiata, ma gli impegni sono diventati tanti altri, quindi quando riesco, quando ho del materiale non lo andrò a portare, magari un video lo tiro fuori. Comunque detto questo, andiamo a fare la recezione oggi di questa torcia che con l'occasione del Blackfly dei prossimi giorni avrete l'occasione, avrete l'opportunità di acquistare. È una torcia veramente buona ragazzi, l'ho provata velocemente appena scartata e devo dire che mi ha veramente impressionato. Stiamo parlando della O-Lite GL Pro Palkyrie, che è veramente interessante, questa qui è la torcia, adesso la andremo a vedere più nel dettaglio, vi farò vedere un po' come è fatta, come si attacca la pistola, tutte le varie caratteristiche, però le andiamo a vedere un po' più da vicino. Ed eccoci con lo zoom sulla torcia, questo è come si presenta la scatola, con la torcia incassata in questa protezione di plastica, con all'interno questo cavo, che adesso andremo a vedere, due brucoline identiche e un attacco che serve per sostituire, in caso ci serva, l'attacco da rail che è già presente. tramite queste due brucoline andremo a svitare questo pezzo e andremo a cambiarlo, nel caso si rovini, nel caso dovreste cambiarlo. Come dicevo c'è anche questo cavo, che è il cavo di ricarica, la torcia ha una batteria integrata, quindi per ricaricarla basterà semplicemente attaccare l'USB ad un computer o ad una presa di corrente e poi porgiare il suo attacco sopra la batteria e si andrà a caricare. Qui c'è un, adesso ve lo faccio vedere, che diventerà rosso una volta attaccata. Vedete, così quando è carica diventa verde, una volta attaccata la torcia in carica diventa rossa, molto comoda, molto ergonomica come cosa. In carica massima la torcia a potenza massima ha una durata di circa 45 minuti, invece a potenza minima ha una durata di circa 90 minuti. a potenza massima esprime una potenza di 1500 lumen e invece a potenza bassa esprime 300 lumen di potenza. Ghiarano praticamente che ha una gittata a massima potenza di 280 metri, poi una torcia bella potente, la andremo poi a vedere, vi ripeto, dopo faremo un test, quindi la proveremo. È resistente all'acqua e diciamo che la cosa più importante è che ha un attacco rapido tramite questa levetta, ha un attacco rapido e si può montare al di sotto delle pistole, come dicevo prima nell'introduzione. Qui ho due pistole, adesso andremo a vedere, questa qui è da Softair, questa è vera, è che vi farò vedere come si aggancia benissimo sia a una che all'altra, anzi su quella vera aggancia ancora meglio. La pistola è scarica comunque ragazzi, adesso ve lo faccio vedere. Andiamo a montarla su quella da Softair, anche se... Caricatore... Andiamo a montarla su quella da Softair, andiamo a vedere che... Ok... E questa è come è montata su una pistola da Softair. Adesso abbiamo una Glock qui, come esempio, ma diciamo che tutte le pistole che hanno un rail sotto il carrello possono benissimo montare questa torcia. Andiamo adesso a vedere le varie impostazioni della torcia. Allora, la torcia, come dicevo prima, ha una bassa e una alta potenza di luce. Allora, per accendere la torcia e tenerla con la luce fissa basta semplicemente cliccare uno di questi due pulsantini. Per cambiare la potenza, quindi che adesso siamo in potenza massima, basterà cliccare due volte, rapidamente, e diminuiamo la potenza della torcia. Poi abbiamo un'altra modalità che è la modalità strobo e basterà premere contemporaneamente le due levette e avremo la modalità strobo. Abbiamo poi la possibilità di mettere in sicurezza la torcia da eventuali tocchi, eventuali botte date su questi pulsantini per non farla scaricare così gratuitamente. Quindi una volta che è spenta basterà cliccare per mezzo secondo questa leva e dopo subito mezzo secondo cliccare la seconda insieme a quest'altra per due secondi. E adesso ve lo faccio vedere, quindi mezzo secondo e poi due secondi, la torcia è bloccata. Adesso qualsiasi, andiamo a toccare, la torcia si accende ma non rimane con la luce accesa e la potenza è impostata su quella bassa. Quindi qualsiasi colpo di urto fatto alla torcia la tiene comunque in sicurezza per non farla scaricare. per sbloccarla, stesso discorso, mezzo secondo, due secondi e la torcia adesso è sbloccata. Bene ragazzi, andiamo a vedere adesso come si comporta al buio questa torcia. Eccoci ragazzi a testare la torcia, adesso la spariamo a una distanza di circa 20 metri, 15 metri. Andiamo a vedere qual è l'intenzione della luce, la faremo a massima potenza, subito. Questi sono circa 20 metri, qualcosa in meno, e diciamo che non è niente male. l'intenzione della luce con un po' di potenza. Chiaramente adesso l'immagine viene bilanciata un po' dalla videocamera. Adesso ci sblocciamo e andiamo, aumentiamo i metri. Ok, adesso siamo circa a una cinquantina di metri. 60 metri dall'albero, più o meno 50-60 metri. E la luce è veramente ottima. Ora chiaramente a 280 metri non so come farvelo vedere. E' un pezzo per il frutto. Su, provo ad allungarmi un altro po'. Vediamo se troviamo un posto. Cerchiamo adesso di illuminare un buco di ombra lungo quel violetto. l'intenzione del frutto. E' un po' di circa 112-130 metri. E' un po' di albero in fondo. Diciamo che la luce è ottima. Siamo adesso all'interno della mia abitazione. Andiamo a cercare la luce. Vediamo che l'illuminazione è ottima. E' veramente ottima. Quindi ragazzi, questa è tutto quello che ce l'ho detto. Questa torcia mi hanno mandato anche un pensierino insieme a questa che è praticamente una torcetta. Anche questa è interessante. Questa ve la mostro molto velocemente. Si prende un attivo portachiavi. Si potrebbe attaccare gli avi. La torcia con una doppia intensità. Anche in calandella. E si carica sempre la batteria interna con un USB. In un USB. Tranquillamente potrebbe attaccarlo a un caricatore. E a una doppia intensità. Devo dire che per quanto è piccolo. Fa una bella luce. Bene ragazzi, io vi saluto. Se avete bisogno di una torcia per la vostra pistola. Questa è fatta di voi. Ed è veramente un ottimo prodotto. Vi lascio un commento in descrizione. Noi ci vediamo con un prossimo video. Non so quando. Non so come. Ci rivedremo. Questo canale non lo abbandono. Non lo aiuto. Quando posso, posto. Quindi hashtag quando posso, posto. E ragazzi, ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.